...la due giorni di arte in questa 2.0 organizzato nel liceo artistico Sacro Cuore. Una a due giorni in cui si alterneranno arte, poesia e danza. Si parte stasera con due emozioni da vivere tutte in un viato. La prima con l'inde Mastro Simone dei Traili dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze che insieme a Michele Gomez, presidente di Bivart e ai ragazzi della quarta lì del liceo coordinati da Anna Branco presenterà questo importante lavoro. Ancora più interessante il musical Amor che muove il sole ispirato alla Divina Commedia. L'idea è nata dalla docente albanese insieme alle colleghe Quarticelli Genovese e Pupano che tra cui morti sia i ragazzi del liceo classico che quello artistico. Con la direzione reggistica di Piero De Santis, la partecipazione straordinaria di Titti Bumbo e le musiche di Francesco Chiavinelli.